Bella e nottari, bentornati, qui Yoshi e oggi siamo qui con i Toz della Bundes Insieme ai Toz della Bundes pure pack opening Veloce, vi metto, non lo so, penso qui Vai Piove, è un brutto tempo sto video Tapsoba? Ah, almeno abbiamo trovato uno da metto in squadra Mario Comezzo, sai io che l'avevo fatto uno? L'avevo fatto CDC Speso 10k dei ruoli, CDC e io giocavo là perché era buona recupera a palloni Ti posso dire? Mi pare un bel co***o con 85 di velocità però Non mi sembra niente da questo Tapsoba Mi pare meglio un chiave Vai Toz garantito di nuovo Mamma mia 785 vai Olè Manco da qui Oblacchi Rodri Ma il cazzo c'è sta Nikona dietro? Ma che mi ha dato? Immagino chi esce da dietro, un campione Marco Dino Oh Dio, non ci credo un'icona Che culo Ah, mi ho trovato Grumbigel però Si, 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 apre un po' musculato Vai, 487 Che ci dà di bello? Toz, eh, ci mancherebbe Brasile Nico Allison è tornato Nico, grazie a noi, ben tornato Ederson e arriva il Toz dietro Attenzione Adesso sarà anche Ciu-ciu-ci-ciu-cia-ciu Ah Amo finito co' Allison E mo' se incomincia co' Cobble E andiamo Dirgil van Dijk E Dreyer Olè Dreyer E andiamo Mannateve ne affanculo va Bella ragazzi Vi ricordo sempre che se siete alla ricerca di crediti per gli AFC24 Scontati Veloci E sicuri Vi lascio il link in descrizione Con il codice sconto Yoshi Quindi mi raccomando Fatene ovviamente Buon uso E in maniera intelligente Io vi do un bacione E ciao Dopo questi grandi pacchi che vi siete visti Andiamo Sto registrato sto microfono Sì, ok, sto registrato Andiamo a vedere i Toz della Bundesliga I Toz della Bundesliga Che so Simpatici Non so brutti Per niente De qua e della su Giù Papiri Papapapà L'unico problema è Il drop Che si stanno a tenere per loro al 4 di maggio Cioè ieri ho aperto un miardo di pacchi Come avete visto Il drop è stato quello che è Cioè ho trovato sto imbecille De Cobble E io che cazzo ce devo fare Ma poi ci stanno dei prezzi assurdi Cioè la Frimpong sta a 6 milioni E per carità Forte è sì Però sempre 1,70 rimane Nel senso Non è che in game Quando so 1,70 Te fa sta differenza Incredibile De conseguenza Non è che mi chieda di Ma poi non si trovano Cioè ho aperto un miliardo di pacchi Un miliardo di robe Non si trovano cazzo Cioè abbiamo Virza Pure questo 5,5 No, bello per carità Ma i carte non Poi oggi i Toz C'è Re 7 E E Balutelli C'hanno avuto la brillante idea Di rinviarli a domenica sera Mettendo che Eh no Totsmix Ed ancora trovi il grande Ciuciu di Maria e Nani Qui 3 coglioni Piano del culo Nego poti mettere subito Umber Totsmix Così Ero costa ancora di più Ronaldo Grandi Ma voi Per carità I play styles sono belli E' tutto bello 5,5 E' solo che Costa 3 milioni Cioè nel senso C'hanno proprio dei prezzi Fuori da testa Essendo poi Tots Che dovrebbero essere La portata di tutti Ecco Dio Stanno a trattare come Fosse un evento qualsiasi Quando il gioco è bello Finito Morto e Seporto E ha pure rotto il cazzo Quindi Grimaldo Grimaldo 2 milioni e 3 A be place Per carità Poi lo stesso discorso De free 1,70 Quindi poi in game Non inizio a beccare Montagnone di 2 metri Non si muove più Musiala Questo è uno di quelli Che vorrei provare di più Perché mi era piaciuto Il candidato messo punta Era tanta roba Vosa 3 milioni Questo 3 milioni Forse gli do Metto attaccante Con 99 De dribbling È troppo 2,95 Finalizzazione 97 passaggi Tutta velocità È grosso in game Tecnico Filtrante Lungo Illusionista Per fare i gol Quelli da tumore Poi abbiamo Harry Kane Harry Kane l'hanno fatto Con l'R1 d'oro Costa 6 milioni E 6 Milioni E 6 6 milioni E 6 Ok Per carità 99 Di 93 Di 90 Di agilità È lungo Questo taglio Ci potrebbe essere Tanto Un po' La Socrates Poi abbiamo TAC 100k Questo ci fa Mugazzi Se può provare Per carità Non è male Certo Difensivamente Non c'è una roba Ora a parte Mastino Ole Aspirapolvere Openda Con Razzo Con La Cassaforte Il Bird E io Ho una delle carte Che faccio più fatica Riprende Quindi questo potrebbe Essere Un bello stronzo Eppure lui Estinto Con Ranger Mezzo milione Perfetto Poi ci abbiamo Sané Sané Sbc Questo forse è uno Di quelle che gli è uscito meglio Perché costa 4,50 All'Sbc I playstyle Sono buoni Il giocatore Insieme Non è male Sané Bello piazzato 5,4 Non è stato riuscito A cacciare Una bella carta Secondo me Costanemo Stavo a fare Questo ci giocheremo Sicuramente La Weekend League Boniface 4,4 Forse 4,5 Se poteva proporre Ah non lo so 300.000 credit Comunque Non ti costano regalare Io avevo provato Il Il Future Star Mi pare Era carino Una bella carta Sembra che era abbastanza bene Razzo R1 Rapido L'R1X Il filtrante Powershot Cassaforte Io su questa Sono abbastanza scettico Specie sui giocatori Offensivi Pure se non ci aveva Ho provato il Toz Forse ho più animazioni strane Che gli facevano perdere il pallone Che altro Aereo Plus 1,93 Ok Xavi Simons Lungo Di Kitaka Razzo R1 Beh adesso Xavi Simons È una carta Sempre stata forte Si muove bene L'anno scorso pure Mi pare uscire il Toz Che stava al PSV 4-4 Quindi Boh Bella Bella cartina Costa mezzo milione Però secondo me È tanta roba Poi abbiamo Slotterberg Slotterberg Pure sta alto Una cifra Duplay style difensivi Mezzo milione Pure per questo Shaka Shaka che Berpiò poco Quanto c'ha Deve Agilità 80 85 Giusto 80 Rete dribbling Magari Puzza un po' Quanto sta Shaka 200.000 Non mi so se potrebbe Provare a buttare Dentro il team Powershot Piccardo c'ho Duplay play style Ora Ok Forse è leggermente lento Ghirassi Ghirassi Pensa che oggi Lo proviamo Perché costa poco Sul secondo account Cioè 180.000 Non ti posso Stanno regalare Però insomma Razzo rapido Powershot Forte di testa 1.87 Arto basso Per me queste sono Le carte classiche Che dovrebbero Sto over All i Tots Perché tanto Non è che so Carte che fanno La differenza So più forte Dele carte Che vanno utilizzate In genere Invece comunque 150.000 180.000 Chi devi sganciare Malen Corazzo rapido Certo c'è stava Levo 5.5 Che era una roba Disumana Questo invece L'hanno cacciato così Questo pure Costa una cazzata Malen 180.000 Besti lo regalano Negli obiettivi Te dirò Bella carta Completo Un po' Un po' La basket Questo qui C'ha pure Razzetto E robe Finesse Ci piace Ah degli Emi Secondo me Altro cartone Che sta E sto qua in momenti A degli Emi A degli Emi A momenti Quindi ovviamente Tocca andare a vedere Lui Sancio E tutti Sono usciti Per Tots Moments A degli Emi Passaggi Sono un po' Però vabbè Aver 70.000 Mi sa che ci ho Butto dentro Poi abbiamo Niente male Non è vero Che cazzo Sto a dire Coman Che l'hanno risparato 5.5 Giustamente Questo quanto sta 7.000 Il grande coman 7.000 7.000 Che poi apri Più 2 Su tutte le stats Rispetto Al All Burday Che a me Sempre il Burday Quando Becco me Caca Sempre il cazzo È una roba Imbarazzante Come giocatore Quindi Poi pure questo Non è male Sancio Onesto Che è il tiro Basso Però a me Sancio Sempre per discorso Body type È uno di quelli Che Mi fa un pazzì Dovrebbe costare Poco Cioè costa 200.000 150.000 Pure Sancio Giustamente Razza R1 Tiro sì Un po' a me Poi abbiamo Filtrante C'abbiamo Il Whip Di Finesse 5.4 Questo se prova Alfonso Davies Una carta da alieno Vero Gli è uscita Una roba Imbarazzante Secondo me Prendi una carta assurda Cosa Un milione e mezzo Che ti dirò Vista la carta Forse non è neanche troppo C'è più c'è il Tech Un mila playstyle 5.4 Veramente bello Certo È un app Rispetto alla versione SBC Che c'è Monerclub da 6 mesi Sì però Upamecano Non so che carta Gli hanno fatto Una roba allucinante Costa più di un milione Il grande Il grande Upamecano Goretzka 4.5 Tutti 90 Più Pure Goretzka Goretzka Tanto costa 3 milioni Tanto danno Sparato Goretzka 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 Estinta 1.9 Non sbagliate range Che poi ho provato Il birdie Con 4 di meno Su tutte Stasera Ambitone Salute Però Questo So degli Da Kitos Ogni anno È il mostro Marco Corino Royce Ecco Pure questo È interessante Royce Ultimo anno Al Borussia Ha detto Che non Che se ne va E Costa un milione Mi sa Royce Sembra carino Sembra Ci può stare Razio è tecnico 99 Di accelerazione Adesso pure Lo proverei Ne mancano un paio Che sono rimasti fuori Che sono i bidoni Fammi controllare un attimo Perché non entravano tutti La cosa carina È che droppano un sacco di carte Per carità Però Ci sarebbe pure Allora C'è sta Anton Che Costa tipo 70.000 C'è Procione Lancio lungo Affronta E Mastino 88 De velocità 1.90 91 Di fesa 90 Di fisico Posso dire Signora carta Abbiamo visti tutti Andiamo sui momenti E poi andiamo Volante Sulla lega femminile De Iemi Tapsoba Quello ho trovato Adesso non mi dice Veramente nulla C'ha tutti i playstyle difensivi Però secondo me È un pelo lento Però non c'è un bel brutto body Tapsoba Questa 20k E il resto Visti tutti E allora Facciamo Squadra Della stagione GPPPPP Squadra delle stagione Eccoci E ci abbiamo Allora Pop Schuller Stava Che a scarpato Sto a mezzetti Noi Allora Pop 5 5 Questa C'aveva Artotti Ed era Onesto Una bella carta Questa Tanta Tanta Roba Ed è Estinta A un milione E mezzo che hanno trovato tutti i range Pop è stinta a 1.5 Poi la Shuller sta a 165k Abbiamo 95 Con queste stats E questi playstyle ci potrebbe anche stare E si potrebbe anche provare Secondo me Poi abbiamo la Stunway Ebbene pure questa Questa è stinta a 300.000 Sopra il fantasy C'è una cartella madonna ed è pure 4.5 E il portiere Dopo pure tenere 1.75 A Niomi è SBC Questa è una cazzata Secondo me ci potrebbe stare Non capisco perché ce l'affronta Però c'è pure una buona difesa E poi abbiamo No squadra della Il plus sono uscite Tipo la Pyre c'è una carta assurda Sta a 3.80 estinta Ma c'è un cartone della madonna Razzo tecnico rapido Guarda che cazzo gli hanno cacciato essi Dai e festa con sto cazzo da Spiraport E merda 70 da difesa A me andiamo finito National Swans Con dribbling 90 Difesa 93 Passaggio Vabbè questa pure ne è malaccio Poi costano poco Costano 100k 75.000 Kovalki Vabbè in cesso Costa 20.000 crediti Per quanto poi c'è tutti i play Stati sui passaggi Eppure il finestoro Potrebbe essere un po' qua La Claudia Pina Questa non ci interessa La Vigoroth 1.70 Mando cazzo Gioca questa E poi niente Siamo Siamo arrivati C'è pure la moments Ci stanno pure due moments Aspè Dove faccio vedere due moments E se andiamo a fare Porco Dosa Fa dietrata Io non capisco Veramente Ho visto pure il registro Sì sì Porco Dosa Oberdorf Boh Era Bonertodi Secondo me In un senso Di difensore centrale Potrebbe essere interessante Con questi playstyle Dunst Con lungo Tecnico 1.68 Sinceramente Sta bene E la Crumbie Non mi pare Vero messi in paccazzo De cane 1.70 Questo pure Si potrebbe provare Non è una brutta carta Dovrebbe costare 26.000 Più o meno C'ho in mente La squadra Che utilizzeremo Questa settimana Quindi Ci vediamo Dopo su Twitch Ciao